Tamponamento tra tiro, un morto e successo alle 13 in A21 vicino all'autogrill di Piacenza Ovest, quattro e mezzi coinvolti, auto cadute da una bizarca a lunghe code. Strage a Berlino, città sotto shock, la giornalista piacentina Laura Lucchini tra i primi a recarsi sul luogo dell'attentato, un'altra piacentina Elena Rovati fa sapere che la capitale sta reagendo con compostezza. Polizia Municipale, domani il bando, 13 posti per agenti, sono attese migliaia di richieste, la domanda potrà essere presentata solo online. Trentenne, denunciato per stalking dopo le chiamate a raffica all'ex moglie, si è presentato sotto l'abitazione suonando ripetutamente al citofono. Tresepi, niente corteo, dopo la mostra di Palazzo Farnese salta anche il tradizionale appuntamento lungo il Po. Salvato un falco con le penne ghiacciate, una signora l'ha trovato nel giardino di casa a Gragnano e l'ha affidato alle cure del centro di recupero per animali selvatici di Niviano. LPR, missione compiuta, la squadra piacentina ha battuto Minsk e accede ai sedicesimi di finale di Copacer di Volley.